Ciao, buongiorno, sono Marco Giovanetti, il product specialist della branch italiana di Yamaha Music Europe. Nel pomeriggio abbiamo fatto una presentazione di alcuni prodotti della line-up SIS, quindi Commercial Install Solutions di Yamaha. Durante l'arco della giornata ci sono state altre cose, tra cui il test drive delle moto, la pericena con musica, quindi è stata una giornata molto piacevole. Abbiamo incontrato una parte di installatori già ben presenti sul mercato e quindi con una certa professionalità che hanno manifestato chiaramente con le varie domande che hanno fatto, eccetera, e poi c'erano anche ovviamente delle altre persone che magari provengono dal mondo dei service e che magari sono interessati ad approcciare questo tipo di mercato, quindi diciamo che era abbastanza varia la platea di persone che abbiamo avuto oggi. Sono convinto che è stata una bella giornata, piacevole e spero divertente per tutti. Grazie per la visione!